buongiorno e bentornati sul mio canale oggi un nuovo tutorial in collaborazione con l'azienda elbiz vi faccio vedere quello che ho creato con alcuni prodotti che mi sono stati inviati dall'azienda vi ricordate nell'unboxing vi ho fatto vedere i cerchietti io ho creato questo modulino molto semplice ragazze veramente semplicissimo con due misure di cipollotti 3x4 e 3x2 rocaille 11 0 qualche 15 0 e 8 0 tutto qua non è niente di particolare questo modulino naturalmente può essere usato per degli orecchini per un per un ciondolo non è eccessivamente grande né tanto piccolo insomma non necessariamente per essere applicato soltanto sui cerchietti io ho optato per questa soluzione anziché cuscirlo utilizzando il velcro di solito si usa per le giacche le borse le scarpe cioè questa parte più ruvida che viene fissata e poi la parte più morbida che si aggancia facilmente come vedete non si stacca allora questo l'ho soltanto incollato la parte sul sul cerchietto ho usato un normale bo stick vi faccio vedere un attimo che prendo eccolo qua lo trovate facilmente anche da un tabaccaio mentre invece la parte che va ad incollare su questa parte con i dentini l'ho sia incollata centralmente al modulino ma poi l'ho cuscita con il filo di nylon semplicemente così resta più salda al modulino vedete ho optato in questo modo così almeno uno può cambiare colore senza dover avere più cerchietti tutto qua solo questo ora vi faccio vedere nel dettaglio i materiali che ho usato diamo un attimo da parte questo allora per il modulo per questo modulo serviranno tre misure di rocaille ma come vi dicevo sia le 15 0 che le 80 ne serviranno pochissime quindi serviranno delle 15 0 sempre dalla migli occhi delle 80 e naturalmente le 11 0 poi serviranno dei cipollottini tre per due questi sempre che è stato mandato dalla dall'azienda il biz questo è il codice e userò questa colorazione e sono i tre per due il cerchietto che ho preso sempre dall'azienda il biz in ogni busta ce ne sono due e questo il codice del cerchietto sono appunto quelli a fascia larga e in velluto e quindi si può sia cuscire che incollare questo è il codice e poi i cipollotti tre per quattro userò sia la colorazione bianca anche questa corallo e questo è il codice dei cipollotti di questo bellissimo box in queste colorazioni vi faccio vedere il codice e li trovate tutti sul sito dell'azienda il biz non per ultimo servirà un rivoli da 14 mm eccolo qua per quanto riguarda come attaccare il modulino con il velcro vi servirà naturalmente il velcro che questo lo trovate nelle mercerie ed è appunto la parte ruvida e la parte più morbida in gergo viene detto anche asola e uncino e lo trovate sia in questo modo e sia anche già diciamo confezionato di un centimetro un centimetro e un centimetro e mezzo poi dipende insomma l'utilizzo che ne dovete fare e questo è il velcro e poi come vi ho detto io ho usato un normale bo stick che lo trovate qualsiasi ferramenta oppure anche dal tabacchino io l'ho preso al tabacchino per esempio è un normale adesivo 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 l'impiego universale e mi trovo molto bene perché anche altri lavori è usato ed è ottimo questo servirà naturalmente per inserire per fissare il modulo al cerchietto come filo ragazze ho usato un filo di nylon trasparente da 0 18 anche per quanto riguarda il cucire questa parte alla al modulino normale filo di nylon trasparente anche 106 va bene e questo è tutto il materiale io ho fatto anche con le perle però vi devo dire la verità con le perle viene un po troppo grande non mi piace qua sopra per un ciondolo un orecchino va bene ma ad applicare qua sopra non mi piace tanto è troppo troppo grande anche questo ho cuscito la parte sul retro e questo è tutto ragazzi io adesso mi preparo il materiale e b e ci mettiamo subito all'opera ciao a tutte primo passaggio ragazze inserire sul filo 8 cipollotti 3x4 alternate a 8 rocai 11 0 li contiamo insieme sono uno due tre quattro cinque 6 7 e 8 chiudete a cerchio ripassando tra le perline fate un paio di nodini e poi vi portate ad uscire da una 11 0 ecco qua ragazze ho chiuso a cerchio ho fatto un paio di nodini e adesso sto uscendo da una 11 0 ora mettete sul lago 3 11 un cipollottino 3x2 e altre 3 11 dobbiamo formare 4 archetti con questa sequenza di perline 3 11 un cipollottino 3x2 e altre 3 11 noi usciamo da questa 11 0 saltiamo il cipollotto e ci inseriamo nella prossima 11 0 e si formerà il primo archetto ora rientriamo nel cipollotto e rientriamo nel cipollotto e usciamo dalla prossima 11 0 di nuovo 3 11 un cipollottino 3x2 e altre 3 11 saltiamo il cipollotto e ci inseriamo nella prossima 11 0 formando così anche il secondo archetto e dovete continuare così per tutto il giro e si formeranno altri due in totale avremo quattro archetti ecco qua questo è il risultato ragazze adesso portatevi ad uscire dal primo cipollotto del primo archetto che abbiamo formato ora mettete sul lago 5 11 0 sono 5 11 0 da questo cipollotto inserite nel prossimo archetto sempre nel cipollotto in questo modo di nuovo altre 5 e vi inserite nel prossimo cipollotto e dovete continuare così per tutto il giro ecco qua comincia a formarsi la gabbietta io sto uscendo adesso sempre dal cipollotto non faccio altro che rientrare nelle prime 3 11 0 di queste cinque che abbiamo inserito nel giro precedente tirate bene il filo mi raccomando ora qui mettete sul lago un cipollottino 3x2 e vi dovete inserire nel prossimo archetto di 5 nella rocai centrale senza tirare troppo perché dobbiamo mettere il nostro rivoli di nuovo un cipollottino 3x2 e vi dovete inserire nel prossimo archetto di 5 nella rocai centrale e tirate bene il filo in questo modo continuate così per tutto il giro ecco qua questo è il risultato ora prendete il rivoli e lo mettete a testa in giù all'interno e adesso cominciate a stringere vedete questo è quello che si deve formare ora prossimo passaggio è semplicemente rientrare in tutte queste perline quindi nei cipollotti che abbiamo inserito per stringere bene la lavorazione adesso tirate bene il filo dovete ripassare in queste ultime perline fate questo lavoro e dopo portatevi ad uscire dalla rocai centrale di queste tre di una fila ricordate noi abbiamo inserito 3 11 0 un cipollottino e altre 3 11 0 dovete portarvi ad uscire dalla rocai centrale di queste di una fila di tre ecco qua ragazze abbiamo stretto il retro del lavoro e adesso sto uscendo metti a fuoco dalla rocai centrale di una fila con il filo che va verso il basso verso il retro della lavorazione ora inserisco sul lago un cipollotto un cipollotto 3x4 aspettate un attimo che controllo se un cipollotto 3x4 un cipollottino 3x2 e un altro cipollotto 3x4 allora ecco qua questa è la sequenza 3x4 3x2 e un altro 3x4 il filo va verso il basso rientro con lago nella prossima fila stiamo parlando del dello spazio grande quello piccolo no quello sello spazio grande rientro con lago sempre nella rocai centrale con lago che va verso il davanti della lavorazione e tiro bene il filo invece in questo spazio piccolo andremo ad inserire soltanto un cipollotto 3x4 e questa volta mi inserisco sempre nella rocai centrale con lago che va verso il retro della lavorazione e dovete tirare bene il filo vedete si devono posizionare in questo modo ora di nuovo prenderemo un cipollotto 3x4 un 3x2 e un altro 3x4 e ci inseriamo sempre nella rocai centrale della prossima fila questa volta con lago che va verso il davanti della lavorazione ecco qua invece nello spazio piccolo andremo ad inserire solo un cipollotto 3x4 e questa volta io rientro nella rocai centrale delle tre con lago che va verso il retro della lavorazione ecco qua questo è il risultato e dovete continuare così per tutto il giro eccomi di nuovo e questo è il risultato io adesso sto scendo sempre dalla rocai ora non faccio altro che rientrare nelle prime tre che abbiamo inserito quindi ripasso cipollotto 3x4 3x2 ed esco dal 3x4 in questi spazi che si sono formati andremo ad inserire una 80 quindi prendiamo una 80 e vi inserite nel cipollotto e tirate bene il filo di nuovo in questo spazio andiamo ad inserire una nuova 80 e vi inserite nel prossimo cipollotto ora ragazze quello che dovete fare mentre state inserendo le 80 e dove c'è il cipollottino 3x2 lo dovete saltare quindi in questo caso noi saltiamo questo cipollottino e rientriamo direttamente nel cipollotto 3x4 e tirate bene il filo si deve formare come fosse una punta ora prendiamo nuovamente una 80 e vi inserite nel prossimo cipollotto qui di nuovo una 80 e vi inserite nel primo cipollotto ora qui c'è il cipollottino 3x2 saltate e rientrate direttamente nel cipollotto 3x4 tirando bene il filo in modo che il cipollotto esca più in fuori formando appunto come una punta e dovete ragazze continuare così inserendo le 80 e facendo la punta a questo picco con i cipollotti per tutto il giro ecco qua ragazze questo è il risultato come potete vedere ora dovete inserirvi nella prima 80 che abbiamo messo nel giro precedente ora dove c'è solo il cipollotto tra le due 80 andremo ad inserire 5 11 0 faremo un archetto con 5 11 0 quindi usciamo da questa 80 e ci inseriamo nella prossima e tirate bene il filo invece dove ci sono i tre cipollotti i due 3x4 e 3x2 dobbiamo inserire 4 11 0 un cipollottino 3x2 e altre 4 11 0 ecco qua 4 11 un cipollotto 3x2 e altre 4 11 usciamo da questa 80 vi inserite nella prossima formando appunto quest'arco più grande con il cipollottino 3x2 qui invece un archetto formato con 5 11 0 e vi inserite nella prossima 80 di nuovo dove ci sono i tre cipollotti andremo ad inserire 4 11 un cipollottino 3x2 e altre 4 11 0 e vi inserite nella prossima nella prossima 80 e continuate in questo modo per tutto il giro qua ragazze questo è il risultato ora i prossimi passaggi quando noi andremo ad inserire le varie perline quando passeremo nei vari archetti sia quello grande con il cipollotto 3x2 che quello piccolo con formato soltanto da 5 11 0 dobbiamo ogni volta saltare sia il cipollotto che la roccaia quella centrale dell'archetto di 5 perché dobbiamo formare sempre le punte quindi adesso io ripasso nelle prime due di questo archetto di 5 salto quella centrale e mi inserisco soltanto nella prossima dopo quella centrale tirando bene il filo e facendo formare la punta all'archetto in questo modo ora qui inserisco una 15 0 un cipollotto 3x4 e un'altra 15 0 una 15 un cipollotto 3x4 e un'altra 15 0 noi usciamo da questa roccaia che corrisponde alla quarta dell'archetto di 5 dobbiamo rientrare nelle ultime due dell'archetto del prossimo archetto e tirate bene il filo ora qui ragazze noi dobbiamo saltare il cipollotto quindi vi dovete inserire nel soltanto nelle prossime due dell'archetto formato con il cipollotto e dovete tirare bene il filo facendo formare la punta anche qui dove c'è il cipollotto qui di nuovo inserire una 15 0 un cipollotto 3x4 un'altra 15 0 noi usciamo da questa roccaia ci dobbiamo inserire nella seconda del prossimo archetto nella seconda vedete qui abbiamo le 5 11 0 ci dobbiamo inserire nella seconda e tirate bene il filo adesso dobbiamo saltare quella centrale e rientrare in quella ancora dopo perché dobbiamo far formare la punta a questo archetto di 5 roccaia vedete dovete tirare sempre bene il filo ora qui di nuovo inseriremo una 15 un cipollotto 3x4 un'altra 15 0 e ci dobbiamo inserire nelle ultime due 11 0 dell'archetto formato con il cipollotto dobbiamo saltare il cipollotto e inserirci nelle prossime due roccaia e tirate bene il filo facendo formare la punta anche a questo archetto e dovete continuare in questo modo per tutto il giro eccomi di nuovo ragazze questo è il risultato adesso inseritevi nella punta dell'archetto di 5 nelle cinque roccai che abbiamo formato precedentemente a fuoco vedete sto uscendo dalla punta ora inseriamo un attimo inseriamo la stessa sequenza che abbiamo fatto prima per gli archetti più grandi quelli con il cipollottino 3x2 quindi andremo a mettere sul lago 4 11 0 un cipollottino 3x2 e altre 4 11 0 noi usciamo dalla roccaia centrale dell'archetto di 5 inserite nel cipollottino 3x2 quello dell'arco più grande vedete si deve formare questo ancora di nuovo altre 4 11 0 un cipollottino 3x2 e altre 4 11 0 e in questo caso ci vi dovete inserire nella roccaia centrale dell'archetto di 5 vedete e tirate bene il filo e tirate bene il filo dobbiamo formare tutti questi archetti facciamolo ancora insieme 4 11 0 un cipollottino 3x2 e altre 4 11 0 e in questo caso ci dobbiamo inserire nel cipollottino 3x2 in questo modo vedete e dovete continuare così per tutto il giro ecco qua ragazze questo è il risultato io sto uscendo sempre dalla 11 0 dalla quale siamo partita metti a fuoco ora dobbiamo rientrare in tutte queste perline dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per gli archetti sottostante dobbiamo sempre saltare il cipollotto in questo caso perché abbiamo creato questi archetti con i cipollotti quindi adesso saltate il cipollotto e vi inserite nelle ultime 3 11 0 e tirate bene il filo mi raccomando si deve formare la punta uscendo da questa rocaille prendiamo un cipollottino 3x2 e vi inserite nella seconda rocaille vedete nelle prossime e tirate bene il filo anche qui dobbiamo fare lo stesso lavoro saltiamo il cipollotto e ci inseriamo nelle nelle tre perline successive nelle tre rocaille successive tirando bene il filo e facendo formare anche a quest archetto la punta qui andremo ad inserire di nuovo un cipollottino 3x2 e ci inseriamo nella seconda 11 0 della prossima fila e tirate bene il filo anche qui andremo a fare lo stesso lavoro inserendoci nelle successive 11 0 saltiamo il cipollotto e scendiamo nelle prossime 3 11 0 e tirate bene il filo in modo da far formare la punta e dovete continuare in questo modo per tutto il giro ecco qua ragazze questo è il lavoro finito dopo questo giro ora inseritevi uscendo da un cipollottino 3x2 ora inserite sul lago 5 11 0 sono 5 11 0 da questo cipollottino ci inseriamo in quello successivo formando appunto questi archetti altri 5 11 0 e rientrate nel prossimo cipollottino 3x2 in questo modo vedete dobbiamo formare tutti questi archetti ancora altre 5 15 0 e vi inserite nel prossimo cipollottino 3x2 e dovete continuare così per tutto il giro dopo di che il modulino è terminato ecco qua ragazze il lavoro è terminato ora l'ultimo sforzo è quello di formare tutte le punte a tutti questi archetti quindi dovete soltanto ripassare senza inserire nulla sul lago ripassare nelle rocai queste ultime saltando la rocai centrale in modo da formare le punte a tutti questi archetti fate questo lavoro e poi il modulino eccolo qua è terminato qua ragazze il modulo così è completamente terminato portatevi già il filo dopo aver fatto un paio di nodini attraverso le perline portatevi il filo ragazze da uno di questi cipollotti qui alla base perché servirà poi per uscire il velcro alla base del modulo allora io adesso vi mostro un po come ho fatto io allora questo è il velcro ragazze il velcro questo quello con diciamo con i dentini che è quello che verrà fissato al cerchietto di regola circa un centimetro anzi meno di un centimetro ragazze dovete tagliarlo di lunghezza più o meno io sono andata d'occhio così e questa questo qua verrà fissato incollato al cerchietto aspettate fatemi prendere l'altro allora e togliamo anche questo allora questo aspettate che allargo un po questo il cerchietto più o meno un laterale abbastanza alto più o meno questo è l'altezza per incollare il nostro modulo io non l'ho cuscito al cerchietto ma ho semplicemente messo un po di colla su tutta la superficie e poi l'ho incollato al cerchietto vedete questo è l'altro semplicemente incollato questa parte se si riesce a vedere bene vedete incollato e adesso non lo faccio con questo faccio solo la parte del modulino per far vedere come ho fissato l'altra parte del velcro quindi questo corrisponde a questo qua e come vi dicevo all'inizio ho usato il bo stick quello che si usa di solito per alta anche per altre cose semplicemente mi sono aiutata con uno stuzzicadenti per spalmarlo su tutta la superficie dopo di che l'ho incollato io ho aspettato naturalmente un po prima di fissare il modulino allora io adesso vi faccio vedere come ho fissato l'altra parte del velcro che è questa sempre più o della stessa grandezza della parte che va fissata al cerchietto questa è la parte che verrà fissata qui con la parte diciamo morbida non si riesce a vedere che va verso l'esterno del del modulo questa è la parte che invece che deve essere incollata cioè incollata cucita al modulo allora per primo io metterò un po di colla giusto al centro ma proprio pochissima e mi aiuterò un attimo con uno stecchetto allora ecco adesso prendo un po di bo stick e lo metterò solo al centro e non il laterale metterò soltanto al centro e adesso lo incollo tenendolo premuto allora prima di procedere a cucire logicamente aspettate un po che si fissi almeno bene la parte centrale giro basta scusate il mio cagnolino allora basta ciro uscendo io vi faccio vedere come ho fatto io uscendo da questo cipollotto riuscite a vedere io mi inserisco direttamente qui non dovete essere delle aree sarte ma soltanto cercando di fissare bene il velcro alle perline ciro basta ora io mi inserisco se riesco a farvi vedere nelle rocai che si trovano sotto non so se riuscite a vedere vedete questa e adesso ripasso di nuovo attraverso il velcro in poche parole dobbiamo cercare di fissarlo il più possibile e adesso rientro in questa vedete in queste due ok ora rientro nel cipollotto nel cipollottino questo piccolo qui alla base e ti salgo attraverso queste due 11 0 e poi rientro da questa parte tirate bene il filo ora scendiamo il ripasso in queste due 11 se riesco a farvi vedere bene in questo modo e dovete fare tutto il perimetro come vi ho fatto vedere non è difficile dopo di che il velcro aderisce bene al al modulino io spero di essere stata chiara ragazze in quest'ultima parte forse non tanto però insomma non è difficile da fissare questa parte quindi fate questo e ci vediamo dopo ecco qua ho fissato il velcro al modulino l'ho cuscito eccolo qua questa è la parte dove verrà appiccicato ed ecco qua il nostro modulino anzi il nostro cerchietto con il modulino metti a fuoco ragazze io spero di essere stata abbastanza chiara se ci sono problemi contattatemi pure che se vi posso aiutare vi aiuterò il modulino come avete visto è semplicissimo da fare quindi adatto anche le principianti questi sono gli altri due e niente io vi ringrazio come sempre vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto con un nuovo tutorial ciao a tutte